è finita ragazzi al De Garmando Maradona risultato inaspettato per il blasone delle due squadre due squadre che in campionato ma anche in Coppa Italia ci hanno sempre dimostrato che sono due squadre forti in attacco che fanno tantissimi gol e invece alla fine Napoli-Atalanta finisce 0-0 ragazzi uno 0-0 che sinceramente nel primo tempo non mi è dispiaciuto a livello di ritmi, a livello di intensità due squadre che comunque pressavano forte quando avevano palla l'Atalanta attaccava fortemente l'Atalanta viceversa il Napoli nei primi 15 minuti il Napoli quindi un primo tempo che mi è piaciuto tanto a livello di velocità, di giocate e tutto secondo tempo invece un po' più timore si sono un po' più chiude le squadre dove hanno fatto più fatica a trovare qualche azione in più se andiamo a sommare tutte le occasioni secondo me ragazzi l'Atalanta avrebbe meritato qualcosa di più perché sia nel primo tempo che nel secondo comunque qualche tiro nostro che chiude la porta l'ha fatto ha creato più gioco il Napoli ragazzi sinceramente io non mi ricordo un tiro in porta intendo un tiro in porta dove Golini è stato impegnato faccio fatica a ricordarmelo ha fatto fatica il Napoli stasera anche perché ha presentato un attacco abbastanza abbastanza sorpreso sì perché comunque mi è andato a schierare Gattuso le tre punte piccoline sì un attacco assolutamente veloce per carità ma quando tu mi vai a schierare in signe Lozano e Politano nello stesso momento sai che ti manca quell'attaccante che comunque ti dà peso in area di rigore che può piare qualsiasi palla di testa ma anche un qualsiasi lancio lungo dal portiere che può spizzartela manca quell'attaccante lì ha preferito questo tridente veloce però che non ha funzionato ragazzi l'Atalanta è stata ben attenta infatti poi l'unica cosa del Napoli che ha avuto nel primo tempo il Napoli è stata quella con Demme che aveva la palla sul sinistro finita il tiro solamente sul destro tiro la palla però esce fuori abbastanza invece l'Atalanta ha avuto tantissime occasioni attenzione nello specchio della porta c'è stato un tiro quello lì di Pessina dove Pessina si butta in area di rigore prende il tempo ai difensori del Napoli tira ospina in uscita la prende la para cioè la para quei piedi la manda lontano e riesce a parare il tiro di Pessina però poi ragazzi mi ricordo comunque anche il tiro di Toroi mi ricordo un tiro di Muriel che è scivolato alto mi ricordo due tiri di Zapata in area di rigore uno al volo tra l'altro che era abbastanza defilato però ha avuto tante occasioni l'Atalanta ha avuto tante occasioni comunque l'Atalanta il Napoli ha avuto solo quella che mi ricordo nel secondo tempo ripeto il Napoli un po' meglio perché subisce meno subisce meno l'Atalanta con i cambi anche di Elmas mettendo Elmas in campo lo stesso Zenischi che comunque è entrato dopo Petagna Osimè che comunque sono attaccanti che ti danno profondità ti danno comunque ti tengono pallone fanno respirare anche la squadra però nonostante questo ragazzi l'Atalanta ha avuto anche lì le cose migliori perché se andiamo a vedere comunque Muriel ha avuto un'occasione molto molto simile a quella di Pessina dove la palla su un passaggio un passaggio un po' così perché quel passaggio lì era un po' fatto così ragazzi alla fine è diventato una specie di asis per Muriel che si infila anche lui prende il pallone però non riesce ad alzarlo quello che basta per battere Ospina Ospina in uscita si fa anche male ma para comunque il pallone si trobrava anche lì Ospina infatti subito ragazzi Ospina e quelli di Bally sono i migliori dell'Atalanta e del Napoli per farvi capire un po' il Napoli come ha giocato questa sera e poi ha avuto anche l'occasione di Trapata ragazzi comunque l'occasione di Trapata è da contare perché comunque fa il terzo tempo in un calcio d'angolo prende il tempo a tutti di testa la gira e Ospina deve bloccarla anche lì centralmente e quindi le occasioni più pericolose le ha avute anche l'Atalanta nel secondo tempo ragazzi il Napoli poco poco veramente poco giusto un calcio di posizione di insegne è molto alto è un colpo di testa di Koulibaly che anche lì non ha inquadrato la porta dove è uscita la palla abbastanza alta però poi basta ragazzi Napoli veramente occasioni di gol non ha avute cioè non ha mai pensato due gol di Trapata l'Atalanta ha giocato bene stasera non ha trovato solo il gol secondo me perché se andiamo a vedere ai punti ai tiri la Dea ha giocato molto meglio la Dea alla fine comunque la Dea ci crede in questa competizione ragazzi perché alla fine aveva una squadra titolare la Dea cioè aveva più titolari a parte Atebor che ha giocato al suo posto Mele che comunque questo ragazzo non mi sta dispiacendo piano piano partita per partita sta crescendo e vabbè ha giocato Muriel a posto di Ilicic ma Muriel non si può considerare un panchinaro cioè o gioca a Muriel o gioca a Ilicic per me non dico che è la stessa cosa perché magari per gli Atalantini è una bestemmia perché Ilicic fa tanto no? al centro campo fa gioco ti crea gioco numeri tira può far gol però anche Muriel cioè se gioca a Ilicic è buono ma se gioca a Muriel non è uno scarto ha provato Gasperini a fare la coppia zappata a Muriel una coppia che non prova mai neanche in campionato a me non è dispiaciuta ragazzi secondo me questi due giocatori possono anche giocare insieme spesso e volentieri però a parte quello l'Atalanta ha poco turnover li ha messi tutti ragazzi ci ha creduto il Napoli il Napoli anche ha messo abbastanza giocatori importanti sì non ha messo dall'inizio Zenischi non ha messo dall'inizio Osimen perché comunque deve ancora riprendere la forma però la maggior parte c'erano Politano ragazzi lo profisco quando entra Politano quando entra spacca le partite ma dal minuto dal primo minuto è un po' un po' discontinuo Politano invece quando entra che la squadra l'altra squadra è già stanca con la sua velocità col suo mancino fa più male fa molto più male Insigne ha provato a far qualcosa inizio partita non ha inizito male stava giocando bene poi è stato un po' a spegnere come tutto il Napoli il Napoli si è andato a spegnere a lungo andare vabbè ragazzi comunque 1-0-0 c'è ancora la partita di ritorno e saremo a vedere la partita di ritorno cosa deciderà per adesso al Diego Armando la Maradona è 0-0 quindi se il video piaciuto mi ricordo lasciate un bel like commentatevi sotto i commenti fatemi sapere proprio cosa ne pensate di questa partita e soprattutto anche se lo diceva ragazzi iscrivetevi al canale condividete il video con questi amici infatti iscrivetevi anche loro noi ci vediamo in un prossimo video quindi per adesso dalle biancone è tutto bella